I posti Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta perché siccome ovviamente il personale è limitato, per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali e questo è il lavoro che si sta facendo. A mano a mano che abbiamo una crescita di domanda e a mano a mano che si riducono attività non essenziali noi apriamo i posti letto. Domani mattina apre il Covid Resive, una bellissima struttura di circa 200 posti letto destinati a paziera, positivi al Covid ma asintomatici. Quindi che non hanno la possibilità di andare a casa, non hanno magari i familiari e che quindi possono essere ospitati qui per il periodo della quarantena, per i 14 giorni o 10 giorni secondo le ultime disposizioni del Ministero della Salute. è un Covid Residence di grande qualità, di assoluta eccellenza. Abbiamo un'intera palazzina di quattro piani che sarà destinata per i pazienti Covid. Questi sono 200 posti letto per pazienti Covid, altro che esauriti i posti letto.